Dopo la vittoria di Colle Valdelza, l'Amen, Scuola Basca e Tarizzo doveva affrontare un'altra trasferta. Nella prima giornata del girone di ritorno, la squadra di coach Serravalli era impegnata sul parquet della capolista CLS Quarrata. Per Niamaranto una gara contro un avversario di alta classifica. Intorno all'esperienza e alla sostanza di Fiorello Toppo, coach Valerio poteva contare sul roster che con il passare della giornata ha dimostrato solidità, tanto da ritrovarsi con merito in testa alla classifica. Al giro di Boa del campionato, per l'Amen una gara molto stimolante dopo l'ottima prestazione di Colle. Una partita in cui ha potuto misurare quelle che sono le sue reali possibilità della squadra in vista della seconda e decisiva fase di stagione. E la Sba non ha deluso le attese. Una gara quasi punto su punto che l'Amen Sba è riuscita a portare a casa. A metà partita, Ammen Sba avanti 42-38, terzo-quarto. Sempre vantaggio risicato ma importantissimo per l'Amen Sba, 53-51. Vittoria finale per 66-63. Con questo successo l'Amen Sba va a 16 punti. A pari merito con l'Audax Carrara e Colle Basket. Seconda e terza posizione, ora sono lontane, solo quattro punti. Domenica prossima al Palaestra la Sba riceverà il Melogia 2000 Livorno, formazione che segue l'Amen Sba in classifica di due punti.